Bella raga, oggi da Fra senza il nonno Dal buon Fra Dal buon Fra Senza il nonno, ma con Saverio sempre dietro la telecamera Salve a tutti ragazzi Andiamo a vedere e a bussare Un po' di roba tra cui statue Un po' Materiale Giocattoloso Logistico Logistico per il gioco di carte Ma sempre prima Cioè sempre dopo Di ricordarvi Di lasciare like, condividere E iscrivervi al canale Per avere tutte le novità e guardare tutti i video Della fumetteria di DRA Funziona? Sì sì funziona Ok Allora Prima di tutto volevo fare una menzione speciale A tutti i ragazzi che sono partecipati al regionale E' andato alla grande regionale Un bellissimo regionale Complimenti a chi ha vinto Non lo dirò qui però Complimenti E poi come al solito Tutti gli eventi che conoscete Ci sono e ci saranno per tutto Per tutto il mese di dicembre anche Tra cui i vari tornei di Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon, Lega Ehm... Iniziamo? Sì vai vai Iniziamo? Vai iniziamo per i po' Vediamo di prendere tutti Allora Vediamo La casa di carta, Rio La casa del papel What if Zombie Capitano America Bello con lo zombie Capitano America Sì sì No Non ancora Begitto Ah Due in quattro copie E zombie Iron Man Sempre di What if E altri due Begitto Altre scatole Quindi altri pop Sempre di What if Zombie Scarlet Witch Bella Izzile Cosa già fa paura di suo Nella realtà Vanno Batte pure Scarlet Witch Zombie Naruto Uzumaki Nella versione Corsa da Corsa da Ninja Ah Post Malone Post Malone Prego Identico Ah Mayura Academia Kurojiri Buonasera Buonasera a lei Kid Buu Di Dragon Ball E Freddy Mare Poi No No Iron Man Nella versione Sì Quelle Light Starlight Quelle espastiche Quelle espastiche Con un super piegone Ve lo faccio vedere Così ci togliamo l'imbiccio Sì Ok Figo Shota Izawa Sempre di Mayura Academia Mettiamoli tutti insieme Shota Izawa Che fio Oh Ma l'occhio Moody Sempre di Mayura Academia Un altro show Che ti sto mettendo sopra E di What If Zombie Falcon Mettiamolo qua Ora Finiti Pop Ma che Chi è Passiamo ai peluci Ma da quando Bellissimo Ma chi è No Sarà un'etichetta Qua Non so Chi è Vediamo Se lo riesco Se C'è scritto qualcosa In caratteri Stranissimi In elfi Cosa ha scritto Può essere È dello studio Ghibli È un gatto Penso di sì Sì Sembra un gatto Sì c'è E niente Un super coniglio No morbidissimo Eh sì No no È proprio bello È bello E poi Passiamo Mamma mia Grande richiesta A grande Eh Mizi A grande richiesta Mi casa Tu casa Vabbè ragazzi Questo è spaziale Mi casa S tu casa Bellissimo Ma poi La versione Vedrata È comoda Perché non le devi uscire Dalle scatole Capito Sì sì Tu quando prendi E le metti direttamente Eh Esposte Così Tanto sono chiuse Poi Passiamo al reparto Un pezzo Perché è arrivato È arrivato Gol di Roger Contro Barba Bianca Questo qui È un Non mi ricordo mai Come si chiama Vabbè comunque È una scena Sì riprodge la scena Sì Si uniscono Sì Una cifra È la barba Che face C'è un altro Goldie Roger Dovrebbe esserci Forse Non c'è Un altro Barba Bianca No Solo un Barba Bianca Poi a grande richiesta Un sacco di Rufi Di Wano Cioè nella versione Più vicina A essere Il re dei pirati E poi E poi Un altro Rufi Questo è Rufi Sempre dopo La battaglia di Marine Forse che c'è la cicatrice Ma non so di quando Più o meno Non lo so È questo qua Molto Molto Dettagliato Molto Dettagliato Molto più Sembra disegnato Da Boichi Poi Abbiamo Bleach Se non mi fate dire Perché non ho ancora visto Dovrebbe essere I Cigo Mi tolgo Da responsabilità Però dovrebbe Essere lui Facciamo Una cosa Spessiamo qualcosa La casa Ok Mettiamo di sopra Quelli che sono uguali Così Facciamo un po' di spazio Ok Poi Due di Dovrebbe essere Dovrebbero essere Due delle Nelle statue Di The Duke Sentence Sempre se non dico Dovrebbe Non me ne ricordo Questo Se mi sbaglio Sì È detto bene Perché arrivò In passato Un'altra Simile Le due Delle 5 Gemelle Ciao Ciao Michael Jackson Demon Slayer Invece Cos'è Demon Slayer Ma il nome Se lo riuscite a leggere Vabbè È il nostro amico Michael Jackson Eh che però Eh ok No sta di là Poi Come protagonista Di Jujutsu Kaisen Non è solo uno Di nome Ma Bella Raiado Questo Non è solo uno Di nome Vabbè Jujutsu Kaisen Il L'altro ragazzo Che combatte Insieme Al protagonista Vabbè Vabbè Clarice Sarebbe Praticamente Il tipo Di Di Action Custode Dragon Ball Eh Goku Blu Super Saiyan God Blu Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo E il cuscino Non preoccupa troppo Però non si può toglier Vediamo No Mettiamo Possiamo No no Mettilo di là Mettilo su Di qua È come Ultime due Kick Eh ma A grande richiesta Una No questa non la so Proprio Cosa Scalpe Scalpe Minipop Di tre portacabi Di Harry Potter Che incendi Harry Potter Al ballo Del ceppo Sì E poi E poi Di una Kick Ricidiale La DeLorean Di ritorno al futuro La Time Machine Hai trasformato Una DeLorean In una macchina Del tempo Dovendo trasformare Una macchina Perché non usare Una bella macchina Aspetta Aspetta E infine Andiamo a vedere Quello Che Spostiamo Che cosa Possiamo spostare Non spostiamo niente Vi faccio vedere Tanto sono tutte Pienissime Sì Deck box Dragon shield Tanti Tanti e tanti Colori Per avere Tutte le possibilità Sono qui Quelli sono Quelli doppi Questi sono I singoli Quelli singoli Ancora Quelli singoli Poi Un sacco Di tutti i colori Proprio tantissimi Fai dare Un'offiata Altri Double shield Vabbè E' pieno E' proprio pieno Le scatole Sono piene Di portadec Ora vi esco Le cose Che invece Non sono portadec Come Il set allenatore Colpo fusione Che C'erano già arrivati Però ora Sono arrivati altri Per metterli in commercio C'erano solo uno La prima volta Non riesce di fare il video Delle Sleeve Abbastanza particolari Delle fit particolari Ah Sembravano che Non fossero mascherine No Queste si chiudono All'interno Con un'aletta Quindi metti la fit E poi la chiudi all'interno Sì E poi l'altri Deckbox E poi un sacco Di bustine Dragon Scegli pure Magenta Sky blue Gialle Night blue Jet Purple Gold Di tutti i colori Tutti i colori Ora abbiamo tutto E lo mettiamo qui E' pieno E ora Andiamo Non per ordine di importanza Ma è capitato per ultimo È capitato per ultimo Sì sì Penso che Uniti In un matrimonio sacrilego Il conde Dragula Come sa Grams Il conde Dragula E niente E poi Ah Questi altri due Sono Diciamo Le cose che non sono ancora state Ah Belli qui Scusi Con la cerniera C'è uno con la cerniera Sì Uno è con la cerniera Uno è con la molla Questi sono della dragoci Tutti e due Vabbè la dragoci fa assieme Le cose spettacolari Ovviamente richiamano I colori delle bustine Nel senso Sì Quelli Probabilmente Quelli violano questo drago A prescindere E quelli verdi Hanno questo drago O il No non penso che sta qua Sì 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 Sono tutte in Ah ok Sono abbinate Sono abbinate Sì Abbinate sì Vabbè I due Vediamo qui Allora mi cadrà tutto No E poi Come facciamo vedere E poi Pieno Ultrapieno Di deckbox Che sono disponibili Qui in fumetteria In via Nicola De Rogero 90 Trani Trani In provincia BT Barletta di Trani Codice postale 76 1 2 5 Se imparo anche il concepto di scala Ora ve lo dico E niente ragazzi Allora Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Ovviamente Se non vi è piaciuto Un dislike Un interlazio Non ne va sempre bene Fate sapere qual è Il vostro gadget O la vostra statua Il vostro copo preferito Tra quelli che sono arrivati Quei fighissimi Cioè Non si fa A non prendere Ma il disarare di qualcosa Però non lo so io Di Non lo so Non lo so di perché Non ce ne ne ho scritto E niente Ci vediamo al prossimo video Bella Bella